Credo che il mio partito in particolare, quindi il centro-sinistra, dovrebbe fare una proposta particolarmente forte che è quella di rinazionalizzare i tre grandi player dell'energia, Eni, Snam ed Enel e ristatalizzando queste tre imprese dovrebbe forzare investimenti che davvero in maniera rapida ed efficace portino il nostro paese verso l'autonomia e verso la sostenibilità. I grandi player dell'energia facciano la loro parte per superare un autunno e un inverno con incognite senza precedenti e la proposta dell'assessore regionale all'ambiente Monia Monni. Per concretizzarsi lo Stato dovrebbe ristatalizzare le tre società, una proposta che secondo Monni dovrebbe far propria anche il Partito Democratico in una campagna elettorale incentrata sul tema energia. Del resto è il momento di scelte forti. Io preferirei che la guida di questo processo così forte, di questa trasformazione così grande fosse saldamente in mano al governo e che i benefici non soltanto ambientali ma anche economici fossero redistribuiti tra i cittadini e le cittadine perché la conversione ecologica non è solo un fatto ambientale, è anche un fatto economico ma non è un fatto che riguarda i grandi player, è un fatto che riguarda le cittadine e cittadini che devono, ahimè, farsi carico dei sacrifici ma che devono anche godere dei benefici non solo ambientali e di salute ma anche economici che possono derivare da questa grandissima trasformazione. Intanto dal governo è arrivato il via libera agli impianti eolico e geotermico nell'Alto Mugello e nella Miata. Finalmente il governo ha riunito le proprie, ha fatto sintesi fra le proprie istanze e la serietà con cui le procedure partecipative sono state condotte ci ha dato ragione e finalmente facciamo un passo avanti decisivo verso la sostenibilità. Interventi che avranno benefici a lungo termine. A breve scadenza invece sono altri i grandi player dell'energia che possono aiutare famiglie e imprese.